benvenuti a tutti logistics ed analytics italia nel video di oggi ci occuperemo di quei casi in cui la funzione cerca verticale nei fogli di calcolo come microsoft excel e il libro fiscal entra in difficoltà perché viene applicata in un elenco in cui ci sono dei duplicati questo argomento ovviamente non è nuovo c'è la letteratura molto vasta ci sono tantissimi video il mio semplicemente un video con un approccio diverso vengono fatti tutti questi video perché per esempio non è molto facile né capire come funziona cerca verticale né capire perché in alcuni casi per poter risolvere il problema bisogna sostituire edificando la funzione per esempio confronta all'interno della funzione indice per poterlo capire bisogna vedere tanti video diversi fatte da persone diverse che hanno un taglio diciamo un angolo nella soluzione del problema diverso alla fine si capisce sembrano difficili queste tematiche ma se uno sente le opinioni di persone diverse poi alla fine dopo aver visto tanti video uno riesce a capire per questo che noi oggi facciamo il nostro video non abbiamo la presunzione che che sia il migliore speriamo non sia il peggiore semplicemente tentiamo di risolvere questo problema noto del cerca verticale con una funzione se aggiungendo un codice impiegati ci troviamo di fronte ad un foglio di calcolo di un'azienda in cui la persona che utilizza il computer non è molto competente perché nel riempire l'elenco degli impiegati stranamente vedete produce i duplicati in che senso nel senso che sia due dipendenti giulio li mette alfabeticamente uno solo sotto l'altro se ha due dipendenti mario li mettono solo cioè ogni qual volta arriva un dipendente prende lui ad esempio fa tasto destro inserisce la riga e mette il terzo mario il secondo massimiliano senza rendersi conto che cerca verticale così non funziona mettiamo che questa lista è molto lunga e quindi la persona per poter fare la mostra paga e vedere quante ore ha lavorato una persona deve fare una specie di di piccolo motore di ricerca cioè e si fa appunto con il cerca verticale scriviamolo qui motore facciamo forziamo l'invio con maiuscolo enter ricerca non ha preso rifacciamolo motore un attimo motore di ricerca o sono io che sbaglio qualcosa motore ricerca facciamo così perché già l'avevo fatto quindi è rimasto e praticamente facciamo come al solito prendiamo dal menu dati la funzione validità in excel è convalida e noi gli diciamo che questa questa cella del foglio di calcolo non deve contenere del testo inserito dall'utente ma deve avere un'origine dati che ha un intervallo di celle in particolare è l'elenco degli impiegati questo re consente di trasformare una cella in una casella combinata discesa una collo box e vedete abbiamo automaticamente messo tutta la nostra lista scorrettamente fatta dal dipendente con i duplicati di modo che quando una persona cerca le ore lavorate possa semplicemente selezionare il numero poi il nome qua senza andare a mano a scrivere il testo e rischiando di sbagliare ammettiamo che questa persona non sa come funziona il cerca verticale e tenti di applicarlo in un elenco in cui ci sono duplicati cerca punto vert ovviamente per inserire una funzione bisogna mettere l'uguale il triangolino ti dice qual è il criterio adesso che bisogna mettere il parametro che bisogna mettere in excel c'è il grassetto criterio di ricerca criterio di ricerca che cos'è la nostra combo box questa qua punte virgola sempre rispettare la sintassi il triangolino ci cerca la matrice la matrice è questa qua vedete adesso c'è questa cornice punte virgola secondo quale indice il nostro cerca verticale va dall'alto verso in basso e poi deve andare a destra perché ci deve dare le ore lavorate quindi colonna 1 colana 2 indice 1 indice 2 deve andare a destra di due spazi virgola falso perché il riferimento deve essere sempre assolutamente perfetto esatto e non approssimativo facciamo invio vedete che ci dice ovviamente non disponibile perché non abbiamo selezionato niente nel nostro motore di ricerca diamogli un colore per non perderla questa motore di ricerca facciamo il tasto scegliamo vediamo che noi scegliamo il secondo mario e vediamo che fatalmente praticamente il motore di ricerca fatto con cerca verticale si sbaglia perché funzionando dall'alto verso in basso quando trova il primo mario si ferma e ci risci da 12 anche se noi abbiamo selezionato il secondo non viene fuori il corretto numero di ore lavorate ma viene fuori quello sbagliato della prima occorrenza che trova riproviamo con stefano noi selezioniamo il secondo stefano vediamo che il secondo stefano ha lavorato 0 ore eppure cerca verticale ci dice 34 ore quindi bisogna stare attenti non solo perché non è facile capire come funziona il cerca verticale ma anche perché se l'elenco nell'elenco c'è un duplicato il cerca verticale sbaglia e purtroppo non ci avverte cioè incredibilmente non ci avverte dell'errore se noi cerchiamo il secondo giulio che ha lavorato 54 ore praticamente lo scriviamo ci dice 34 mentre se noi cerchiamo l'uso siccome ce n'è già uno solo uno vedete che il cerca verticale funziona ma ovviamente non si può fare una funzione così in un elenco deve funzionare per bene la nostra soluzione è fare tasto destro inserisci colonna a sinistra e qui ci mettiamo codice codice impiegato fatemelo riscrivere codice codice impiegato d'accordo allora come si crea un codice impiegato noi possiamo fare semplicemente possiamo fare così facciamo cancelletto con alternative graphic facciamo anche gr 001 poi usiamo l'auto completamento dei fogli di calcolo prendiamo la maniglietta clicchiamo manteniamo premuto e trasciniamo verso il basso e vediamo che abbiamo creato un codice impiegato 001 002 eccetera noi stiamo tentando di togliere i duplicati da questa lista come faremo noi creere un istruzione logica che dice che se il nome dell'impiegato è uguale a quello sopra allora il nome dell'impiegato deve aggiungere il suo codice così abbiamo tolto il duplicato vediamo così come si fa con la funzione se tasto destro inserisci colonna destra questa volta e facciamo scriviamo qui che è il nuovo elenco cioè sarebbe quello buono per bene quello che quello che va bene d'accordo facciamo entrerci introduciamo la funzione se uguale se aperta parentesi diciamo se il nome dell'impiegato che sta in b2 è uguale al testo che ha sopra allora punte virgola tu mi scrivi il nome dell'impiegato che sta in 2 concatenato con le commerciale è il simbolo che serve per concatenare il testo con il suo codice univoco altrimenti me lo lasci com'è chiudiamo parentesi 3 tiriamo giù e vediamo che lui che cosa fa che siccome ha visto che alfredo come testo come striga è diverso ovviamente dalla parola elenco impiegato è lasciato alfredo ma quando vede che giulio è uguale a giulio lui ci aggiunge il numero dell'impiegato è 0 3 quando vede che mario è uguale a mario che gli sta sopra ci aggiunge 0 0 7 quando vede che stefano è uguale a stefano ci aggiunge 0 0 10 rivediamo l'espressione non è così difficile vedete che dice che se il contenuto di una cella è uguale a quella sopra allora mi devi dare lo stesso contenuto della cella più il codice altrimenti me la lasci identica ed ecco che funziona a questo punto che cosa facciamo dobbiamo fare questa cosa qua praticamente anche la combo box lucio ha un sorgente dati diversi perché non è più questa sorgente qua ma è questa qua perché abbiamo tolto i duplicati quindi la selezioniamo andiamo nel menu dati andiamo nella voce validità convalida in excel e scegliamo la nuova sorgente dati che è quella senza duplicati cioè quella in cui i duplicati sono stati associati al numero impiegato facciamo ok e vediamo che adesso la nuova sorgente dati per fortuna vedete che per fortuna ci dà una lista senza duplicati perché il numero toglie i duplicati e qui adesso dobbiamo fare nuovamente cerca verticale da zero uguale cerca verte con quale criterio di ricerca il nostro criterio di ricerca il motore di ricerca e questa cassella discesa punte virgola in quale matrice adesso la matrice ovviamente la nostra è praticamente diventata questa qua vedete perché il nostro elenco senza duplicati è questo qua non è più questo qua punte virgola con quale indice con il secondo perché le nostre ore lavorate sono sempre qui a destra quindi e poi facciamo sempre falso vedete che adesso se io seleziono un duplicato per esempio se le lezioni il marco il mario 007 adesso per fortuna mi da il numero di ore lavorate giuste mario 007 lavora 34 se io scelgo invece il mario normale vedete mi da 12 vedete che adesso funziona se scelgo lo stefano se mi fa cliccare lo stefano normale sia un pochino impallato se scelgo lo stefano normale 34 se scelgo lo stefano con codice univoco di impiegato 10 e se scelgo alfredo che non ha duplicati 23 quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo semplicemente eliminato i duplicati inseriti all'interno di un elenco inserendo il codice univoco di impiegato con una funzione se che dice che se il nome dell'impiegato è quello sopra tu mi metti il nome dell'impiegato più il codice altrimenti mi lasci il nome dell'impiegato spero che questo ennesimo video sul cerca verticale sui problemi dei valori duplicati vi abbia aiutato spero che sia stato utile grazie per averlo visto fino alla fine al prossimo video di logistics ed analytics italia